Buongiorno a tutti, oggi è lunedì 4 maggio e parliamo di analisi ciclica voluta sul DAX. Di cosa parlavo ieri nell'analisi settimanale? Parlavo della possibilità che se fossimo andati sotto un certo livello, i 10.722 punti, avremmo potuto anche andare in chiusura non soltanto di un T settimanale, ma anche di qualcosa di più. Ok, dove abbiamo aperto? Ho preferito aspettare per sicurezza un'ora più tarda rispetto alla solita per fare l'analisi, per il fatto che effettivamente mi serviva capire con molta più precisione dove ci avrebbero portato i future, che peraltro nei giorni precedenti, e in realtà già questa notte, avevano toccato un minimo a 10.369, per cui erano arrivati qui persino, come ritracciamento. Interessante? Allora, facciamo il punto della situazione. Siamo arrivati però a 28 barri, quindi ben oltre le 24 minime che dura l'ottavo T-3. Cosa dobbiamo altro guardare per capire come muoverci? Prima di tutto guardare anche un po' l'inverso. Se prendessimo da questo massimo e andassimo a finire a questo, minimo, potremmo tranquillamente ancora essere nel primo T-3 inverso, che può durare al massimo 34 barre. Oppure, altra possibilità, questa, ma saranno proprio 22 barre. Per cui, adesso iniziamo a ragionare su alcune cose. Prima, tempo medio di un T settimanale, 8 giorni. Quindi, come al solito, non ci muoveremo prima delle 10.01, per il fatto che sappiamo che possono fare finte contro finte. Seconda cosa, abbiamo trafitto con un gap down fortissimo questo livello, questa media mobile a 200 periodi. Peccato non essere rimasti dentro per il nostro short, quello che avevamo preso e portato a casa con buon profitto venerdì, ma i rischi, come sapete, erano troppo alti. Chi ha voluto magari rischiare rimanendo short ha guadagnato bene. Io mi ci tiro fuori, perché, come sapete, preferisco prima capire bene il verso di un movimento e determinate altre cose. Qui, peraltro, potremmo essere persino andati a chiudere questo gap down. Dunque, massimo a 10.486. Eh, quasi, effettivamente. Siamo andati quasi a riprenderci questo. Teniamo d'occhio il tutto, perché dopo la condizione, a questo punto, un pochino più di minima che minima di essere andati in chiusura del T settimanale e eventualmente persino del TP2 mensile, e quindi di aver fatto mensile a tre tempi, bisogna capire come muoversi. In questo caso, come sapete, faremo il punto dopo le 10.01. Vedremo, prima di tutto, se ci sarà stato un minimo che avrà tenuto. Quindi, se questo fungerà da swing inverso. Successivamente, in base alla forza volumetrica che vedrà l'algoritmo, e in base ai livelli stessi dell'algoritmo, il proprietario di cui dispongo, valuteremo le operazioni. Anche perché ricordiamoci che siamo in un trend principale a rialzo. La tendenza è forte a rialzo. Ma in questo momento, vediamo se hanno fatto una bear trap, e quindi stanno provando ad indurci ad andare short dopo una violazione effettivamente forte di due medie mobili, e successivamente, appunto, una potenziale tranquillissima chiusura di TP2 mensile, persino non soltanto del T settimanale. Ricordiamoci, peraltro, che oltre all'ottavo T-3 si può arrivare fino all'undicesimo T-3, d'accordo? Per cui, in questo momento, muoversi tirando i dati non ha molto senso. Bisogna prima, eventualmente, aspettare la creazione di uno swing, e poi, successivamente a questa, vedere, appunto, la forza che si può avere, perché, eventualmente, il primo target a rialzo può essere dato dalla media mobile a 200 periodi, a 10.699, mentre, invece, per il ribasso, beh, sappiamo che già questo livello può essere interessante, ma a breve, chi mi concede più tempo avrà tante informazioni in più. Per cui, scegliete, come al solito, se essere carta da parati, oppure se essere giocatori, se volete diventare indipendenti nel trading, oppure se volete continuare ad affidarvi a qualcuno per andare a capire come si muoverà il mercato, quali sono le news, cosa seguire, come fare, eccetera. Io preferisco rendere le persone indipendenti e libere, ma ognuno suo. Vi ringrazio per l'ascolto, e passiamo ancora rapidamente al Fuzzimib. Eccoci qua. Stessa identica situazione. Anche qui, con questo minimo a 17.085, siamo andati sotto questo minimo qua, quindi 1, 2, 3, e quindi siamo potenzialmente andati in chiusura anche con un T-1 ribassista passino del T-2 mensile. Volete vedere un'altra cosa interessante? Eccolo qua. Un'altra cosa interessante. Non ve l'ho fatta per il DAX, ve la faccio per questo. qui siamo andati a finire sotto quali media immobili, perché la risposta a questa domanda mi dice tantissime cose, e anzi, ve la ripropongo prima in chiave candele giornaliere e guardatele bene qua. qui o abbiamo il terzo T o sta portando qualcosa. In questo caso il ritracciamento è estremamente forte e mi porta a dire terzo T. Guardate. Qui siamo a 32 bar. Durata? Media? di un T mensile? T2 mensile, scusate. Ok. Ripetiamola su DAX. Vediamo se siamo arrivati alle stesse identiche medie mobili. A che medie mobili siamo arrivati? verde, gialla, rossa. Caspita ragazzi, siamo andati alla rossa. Interessante. E quindi avreste più voglia sia su DAX che anche su Fuzzimib di andare long o di andare short. Io forse un pochino aspetterei e poi valuterei un bel long. Voi cosa dite? Buona giornata a tutti. Per me sarà splendida perché ho già deciso così. Grazie a tutti.